Ciao a tutti ragazzi, in questa video-lezione daremo una definizione di limite, facendo riferimento al caso di limite infinito di una funzione per x che tende ad un valore infinito. Si ha y uguale f di x, una funzione definita in un certo intorno di infinito. Si dice che per x tendente a infinito la funzione f di x ha per limite infinito e si scrive limite per x tendente a infinito di f di x uguale infinito, se per ogni m maggiore di 0, arbitrariamente grande, può essere in sua corrispondenza determinato un intorno i di infinito, incluso nell'insieme di definizione della funzione, scelto in maniera tale che per ogni x appartenente a tale intorno risulti verificata la condizione modulo di f di x maggiore di m. Da tale condizione discendono direttamente le seguenti, f di x minore di meno m o alternativamente f di x maggiore di m. Vediamo che cosa possiamo dire da un punto di vista grafico e consideriamo l'esempio mostrato in figura. In questo caso abbiamo disegnato m in fucsia e abbiamo scelto l'intorno di infinito disegnandolo in verde. Per ogni m maggiore di 0, arbitrariamente grande, deve essere possibile determinare un intorno di infinito, scegliendo l'x all'interno del quale deve essere verificata la condizione modulo di f di x maggiore di m. Bene, nel caso mostrato in figura questo accade, ma non deve succedere per un solo valore di m, ma per ogni valore di m. Quindi proviamo ad aumentare il nostro valore di m. Bene, per questo ulteriore valore disegnato in figura è possibile determinare un intorno di infinito, come si vede dalla figura, scegliendo l'x all'interno del quale risulta verificata la condizione f di x maggiore di m, oppure f di x minore di meno m. Se aumentiamo ulteriormente il valore di m, vediamo che comunque è sempre possibile determinare un intorno di infinito, scegliendo l'x all'interno del quale risulta verificata la nostra condizione, e per questa ragione possiamo dire che, per quanto riguarda la nostra funzione f di x, il limite per x che tende ad infinito di f di x è uguale ad infinito. Bene ragazzi, per quanto riguarda questa lezione non c'è altro, spero che tutto vi sia chiaro e vi ringrazio per averla seguita.